Sì, ma che cazzo ti nascondi qua che ti ho visto? Che cazzo ti nascondi là? Dai, non rompi i coglioni, dai. È inutile, è inutile, sì, vabbè, rimbalza come un coglionito che sei. Che cazzo se n'è andato? Vabbè, è andato a morire direttamente, dai. Queste sono le coppe, dobbiamo arrivare a 26.400, no easy comunque, no easy così. Damn no closure, moving closer, no exposure, I just wanna be a loner, some can't stay sober, looking over other shoulders, like moving boulders just to get out of the home, it sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stock, under the rug, all my problems that I shot. Sopravvivenza solo continua la nostra avventura con, sì raga, un iPad M4, sì, è quello nuovo, non ho fatto l'unboxing in video perché penso lo conoscete già. Comunque se volete approfondimenti su questo nuovo dispositivo ve li do tranquillamente, basta dirlo nei commenti. Allora, cominciamo subito ad attaccare questo porca di quella puttana di merda, porca. Vabbè, vabbè, facciamo finta che questa partita non sia mai esistita perché già i nervi ce li ho 3.000, no 4.000, a 5.000 volevo dire, no 6.000, a 7.000. Vabbè raga, avete capito, dai. Allora, c'è una bella cazzettina qua, una bella, ce la prendiamo, ce la prendiamo, sì, dopo 30 anni però ce la prendiamo. Dai bombardiamolo così muore sto coglione di merda, vai coglione di merda vai. Nel frattempo ci prendiamo sta bella cassettina qua, non andare nel power up perché so cazzi i tuoi. Ok, lì ce n'è un altro, altri 3, ce ne sono altri 3, un'ape morta, ok, ok, ok. Ok, ne abbiamo 8 adesso, ce n'è uno di 4 qua, ti ho visto, che fa, te ne scappi eh? Coglioncello, ti ho visto che sei qua dentro, cazzo, stecca, tutte e due morite, tutte e due. Cazzo, cazzo. Vabbè. Mister Scopa. Porca troia se ti prendo. Abbiamo vinto. Dovevo fare il gioco ancora però vabbè. Epico, attenzione. Un cazzo, vabbè, mi aspettavo di meglio onestamente. Tutti i legamiti sono qua, tutti i legamiti. Eh vabbè, eh vabbè. Vediamo quanto valgono questi legamiti. Attenzione perché c'è già un pezzo di merda qua che mi va forte la cassa. Una la prendo, dai. Siamo circondati forse. Non so dove entrare. Cazzo è sparito quel coglione, dov'è? Cazzo è quel coso lì? Porca puttana, raga. Porca troia. Non ho manco visto partire quella cosa. Vabbè, posizione settima, settima posizione, zero coppe perse. Questa è una cosa molto importante. Ma qua abbiamo delle cose da aprire. Apriamole subito. Allora, c'è una star. Vediamo, raro. Porca troia. Vabbè. Cento punti che ancora ci vuole un bel po'. Star epica. Vabbè, emoji del cazzo. Mille monete. Altra star. Che cazzo è? Vabbè, altra star epica ancora. Altri emoji del cazzo. Vabbè. Cento di queste. Ne mancano settecento adesso. Star epica. Dieci gemme. Altra star super rara. Vabbè, vabbè. Mille punti energia. Altra star rara. Che non serve un cazzo. Un beato cazzo. Vabbè, andiamo a fare una partita. Allora, io comincerei a distruggere questa cassettina qua. Se quel coglione non mi viene addosso, già. Vediamo, vediamo. Hai capito che ti devi andare a prendere un'altra cassa e non devi venire a rompere i coglioni a me? Hai capito anche che farai una brutta fine, forse. Cazzo, cazzo. Non era prevista questa cosa qua. Dove cazzo spunti, coglione? Cerchiamo di prendere questa cassa. E vorrei prendere anche l'altra. Forse non ce n'è speranza. Forse, vediamo qua, se la riesco ad ammazzare questa cosa qua, un cazzo di topo di merda, dai. Ah, topo contro topo. Vabbè. Il topo ha ucciso il topo. Forse uccide anche me, sto coglione di merda, porca pittana. Vabbè, non ci agitiamo, non ci agitiamo. Ma sai che vi dico, io campo brawler, dai. Tanto abbiamo dato con questo. E' arrivato il momento di usare questo qua. Vediamo anche cosa so fare con sto brawler. E già subito partiamo con un cazzo di topo che ci attacca. Porca troia per quando non mi ha ucciso. Porca pittana, raga. Non è giusto così, che cazzo è? Porca pittana, tutte e due, tutte e due, tutte e due, tutte e due. Mamma mia. Vabbè, cerchiamo di prendere queste casse qua, dai. Almeno qualcosa la facciamo. Sempre questo cazzo di topo di merda dobbiamo trovare. Sempre sto cazzo di topo del cazzo. Porca pittana, ti distruggo se ti prendo. Uccidete sto cazzo di topo, per favore. Vabbè, che già mi hanno rotto i coglioni. Affanculo, vabbè, finalmente. Ora, questo è un altro problemino. Porca troia, ho sprecato pure il potenziamento. Allora, qua c'è una cassa. Però ci sono anche dei nemici che non mi piacciono. Lo sapevo io, porca pittana. Lo sapevo. Vabbè, quarta posizione alla fine non è manco brutta, dai. Allora, voglio fare una partita a primo posto. Mi devo impegnare per fare... Il primo posto. Però mi devo impegnare anche a prendere queste cazzo di casse, perché sennò a primo posto non ci arrivo manco con il pensiero. Ma io non capisco. Cioè, come cazzo fa? Come cazzo fa qualcosa a fare così? Vabbè, ho capito che per fare il primo posto devo cambiare brawler. Usiamo RT che ha zero coppe. Zero coppe, non l'ho mai usato. Vabbè, ora qua ci saranno solo gli ignoranti. Porca troia, mi sono fatto... Mi sono fatto cedere con zero coppe, raga. Incredibile, incredibile. Sei un genio, stai. Allora, giochiamo serie adesso, per favore. Grazie, grazie. Distrolimi le casse. Grazie, grazie. Sì, 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 sì. Certo, certo. Come no? Vaffanculo vai, coglione, mi viene vicino con le bombe. Certo che ci sta trent'anni a caricare sto coso, va. Ce l'abbiamo fatta? Ancora no. Quattro colpi per una cassa. Cinque power, mamma mia. Se dovevo fare gol, non ce la facevo, ragazzi. Ok. Ok, siamo già allo scontro finale. Già allo scontro finale. Andiamoci a prendere pure queste casse, così facciamo dieci. Undici power, così. Vai, avvicinati. Sì, sì. Vediamo. Questo qua deve sparire dalla mia vita, tipo. Ok, perfetto. E cosa credi di fare, te? Cazzo come si è salvato. L'ho ucciso, ma son morto. Eh, vabbè. Vediamo se siamo arrivati almeno terzi. No, quarti, porca pitana. Son morto prima io. Abbiamo subito un faccia a faccia con Frank. Frank, quello lì, Frank. Lo distruggerò subito. Dopo aver preso la cassa. Già mi ha fottuto due power. Porca pitana. Un cazzo di colpo per terra ha tirato, mi ha ucciso. Vabbè, meglio che non parlo proprio perché sennò devo bestemmiare in quei modi proprio. Nara vai coin, la Nara maico lì, come cazzo si dice, porta di quella puttana. Ma sei scemo? No, già ne so. Una star di merda pure, una star del cazzo. Vabbè. Queste le voglio prendere tutte queste cazzo di casse. Porca di quella trojona, raga. Siamo già a un power up. Siamo già ricchi, raga. Due power up, incredibile. Due power up, eccoli qua. Adesso prendiamo anche il terzo. Sefo, fu, fu, fu. Non ci voglio manco credere. Sì, certo, certo. Terzo e quarto lo prendo lo stesso comunque. Poi se tu sei coglione, bas... Ma è meglio che non parlo. Eh, porca di quella troja. Porca puttana, porca... Vieni qua, vieni. Te cagli in mano, eh, coglione. Te cagli in mano. Il danno mi sono salvato in un modo incredibile. Poi, adesso ne riparliamo. Incredibile che ho ucciso. Quasi un altro kill l'ho fatto. Tanto siamo uno contro uno. Poi dovrai morire. Quasi un altro kill l'ho fatto. Poi no partino. Corhereегgi sono uno stato testo per all'argu Rouge. Quasi un altro kill. Quasi un altro kill l'ho fatto. Quasi un belci. ComproongaPP直ola using mano in tel danza. Come futuristicly titolo.